Buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia, andando a vedere quello che mostrano le ultime missioni modellistiche. Ecco che intorno al 11-12 un nucleo gelido proveniente dal nord Europa dovrebbe muoversi verso l'Italia, inviando così correnti freddissime per il periodo con la termica più 2, più 6 a 1500 metri di quota su buona parte del centro e del nord. Proprio in questa fase anche una perturbazione atlantica molto intensa potrebbe dirigere sull'Italia fortissime precipitazioni, soprattutto al centro e al nord, con accumuli enormi e possibili alluvioni lampo. Proprio in questa fase, grazie alle precipitazioni intense, avremo anche un rapido abbassamento della quota neve fino a 2000 metri. Inoltre a seguito avremo cieli sereni con minime che nelle ore notturne in pienura padana potrebbero scendere fino a 10-12 gradi e le massime non supereranno i 24.